Ci sono anche delle scuole che non sono sicure dopo queste ultime scosse di terremoto a Pozzuoli, anche nella città metropolitana, si è visto che ci sono delle strutture che andrebbero adeguati? Ma di chi devo dire che a livello il paese sta messo molto male, sono i dati della protezione civile nazionale, quindi è un tema che non riguarda Napoli, è un tema che riguarda tutto il paese. Io più volte ho denunciato l'esiguità delle risorse economiche che vengono messe in bilancio da parte dei parlamenti e dei governi nazionali sulla sicurezza del nostro paese e quindi in particolare sulla sicurezza delle scuole. Io posso dire con certezza, dati alla mano, che negli ultimi anni, nonostante la crisi economica, il Comune di Napoli e la città metropolitana hanno investito il più alto numero di risorse dal 1980 in poi per la realizzazione di nuove scuole, per la messa in sicurezza delle scuole e per la ristrutturazione delle scuole. Chiaramente ci attendiamo sempre e soprattutto al nuovo Parlamento che si inverta la rotta da parte di chi la può invertire la rotta e che la smetta di mettere posto in bilancio per le armi o per opere pubbliche inutili e invece lo si faccia per mettere in sicurezza il paese a cominciare dalla sicurezza dei luoghi in cui ci stanno le persone più esposte come i bambini o i ragazzi in questo caso.